Altre domande? Perché io vado a farmi così. Magari voi avete delle curiosità o anche delle cose che non avete capito. Sì, adesso avevamo un capitolo che era abbastanza collegato come argomento. Forza, forza rapida, abilità. Vedete qualche altra domanda su questi aspetti? Allora, per misurare l'ampiezza dei movimenti abbiamo due tipologie di test. Test lineari e test angolari. Nel test lineari io misurro la distanza tra due parti del corpo, come nel test riflessione del tronco, si intervista, è il test più usato nel mondo, dipende dalle capacità di lungare soprattutto i muscoli posteriori della coscia, e vedete che la distanza che vado a misurare è quella tra la punta dei piedi e la punta delle ditte del tronco. Chi riesce ad andare a occhio in vero di pietra, per risultati buoni, invece non ci arriva, è carento. Altre volte nei test lineari posso misurare la distanza tra un punto del corpo con le tube e il pavimento. Esiste tutta un'altra famiglia di test con i goniometri che mi permettono di fare delle misure angolari di tutte le ampiezze di tutte le articolazioni, anche quelle delle faranze delle dita, perché il dogmiometri più grande va all'autonatezza dei movimenti a livello delle grandi articolazioni spalla, arca, ginocchio e vomito, e dopo ci sono goniometri di attenzione più piccoli, articolazioni più piccole. Nel caso di infortunio, questi goniometri vi permetterò di confrontare l'alto sano con l'alto non sano e voi sapete benissimo che la prima cosa che va a vedere il fisioterapista, e anche voi se vi occupate di una facetta infortunato, è di condannare il rombo, quindi finché il soggetto ha un'impiezza di movimento più ridotta nell'alto dove ha avuto l'infortunio, bisogna lavorare più sulla flessibilità, sulla impiezza di movimento. Dopo, verso la nuova forza. Vedete, cioè la prima cosa da fare in fase di rifiuto, della presa di movimento, è quando hai l'ampiezza caverso. L'ampiezza caverso, se no, avete misurato prima la più spontanea con l'alto sano. Se andiamo nell'ultimo quarto d'ora sulla resistenza, così ci abbiniamo anche allo sforzo mentale e alla resistenza. E poi stiamo parlando di vari meccanismi energetici che entrono in gioco e tra ogni meccanismo energetico che potremmo individuare dei protocolli di test diversi. I meccanismi energetici, vi ricordo, sono quello aerobico, che è il servatorio più grasso che abbiamo, è quello che ci permette di utilizzare i cucini e i grassi, però ha una potenza piuttosto ridotta come erogazione di energia. Senz'altro il meccanismo che offre la maggior potenza è il meccanismo aerobico alla tacea, che ha una potenza più elevata, però ha un servatorio piuttosto ridotto. Ecco, quello che noi abbiamo nel nostro organismo come fosfati, ATP e fosfacretivo. In situazione intermedia è il servatorio anaerobico lattacido, che ha una potenza e una capacità intermedia rispetto agli altri due. e una cosa da prendere in considerazione sempre quando parliamo di test di resistenza è come i tre meccanismi energetici entrano in gioco in funzione del tempo. Questo grafico ci permette di capire cosa succede a seconda della durata del test. Perché? Perché se il test è molto breve, pochi secondi, è chiaro che l'energia deriderà soprattutto dai fosfati, che tendono però ad esaurirsi molto velocemente, nel giro di 20, massimo 30 secondi, i fosfati sono ridotti a minimo. Cioè devono subentrare gli altri meccanismi. Un meccanismo che entra in azione abbastanza rapidamente per subire alla carenza dei fosfati è l'agricolisi, un meccanismo aerobico lattacido, che entra in azione più velocemente. Il meccanismo aerobico entra in azione più lentamente. Perciò, se siamo su sforzi che durano tra i 30 secondi e i 2 minuti, l'agricolisi è entrato in azione formendo il massimo delle sue potenzialità. Ma il sistema aerobico? No. Non è ancora entrato in azione. Vedete che da un punto di vista che potrà oscillare tra il 30 e il 70%, non fornisce il 100% delle sue possibilità. Con questo grafico ci spieghiamo perché Cooper, quando ha validato il suo test e ha approvato il test di 2 minuti, non ha trovato correlazioni elevate con il consumo di ossigeno. Adesso ce lo spieghiamo in quel grado. Avete capito perché le correlazioni sono molto più strette tra consumo di ossigeno e un test di 12 minuti. Perché dopo i 5-6 minuti la performance dipende molto dal meccanismo aerobico. Però solo dopo i 5-6 minuti. Ecco, in 12 minuti sono sicuro che la performance dipende molto dall'erobico. Perché non è la metà test, dipende dalla potenza del meccanismo aerobico. Se faccio test molto corti di 1 minuto, di 2 minuti, la performance dipende poco dall'erobico e dipende più dall'edessante a meccanismo. Questo ci spiega le correlazioni che ha trovato Cooper facendo test di diversa lunghezza. Vedete qui il contributo, in prove di 10-30 secondi, di 1 minuto e mezzo, dei vari meccanismi energetici. Allora, tenendo a conto questi presupposti scientifici di approfondimento del conoscenzo sui vari meccanismi energetici, andiamo sul pratico del protocollo del test di resistenza. Allora, riguardo al protocollo del test, possiamo individuare 3 famiglie di test. Uno, il test come la gara. Il test come si cerca di fare il massimo, in medio di metri. E qui ho messo il test di Cooper. Il test di Cooper non è altro che una gara di resistenza, come quella della tecnica leggera, dove invece di fissare la distanza, sui 1.500 e 5.000, fissiamo la durata. Perché Cooper ha deciso di fissare la durata? E non dire, facciamo una gara su 3.200. Perché avendo soggetti molto diversi nel reclutamento delle reclute dei piloti degli aerei americani, ci poteva essere un soggetto molto prestante, che sui 3.000 metri ci metteva magari 8 minuti, e ci poteva essere un soggetto molto carente, che sui 3.000 metri ci metteva 15 minuti, doppio. Allora, avevano fatto due test completamente diversi. Uno più sul versante aerobico, con l'altro più sul versante aerobico. Allora, per rendere uguale il test per tutti, Cooper ha deciso di fissare il tempo. Ma ora distanza. E ovviamente il risultato del test è un giro in piedi. Questo è un esempio di test massimale, perciò c'è una prestazione aerobica da campo, posto zero. Quest'altro invece è un test anaerobico, non da campo ma da laboratorio, perché richiede un ciclo di argomento. Dura mezzo minuto. Perciò già vi potete dire che cosa vanno a notare dal punto di vista delle cabine energetiche. Se dura mezzo minuto, che performance andrà a misurare? L'aerobico, l'attacico e l'attacico, le due aerobiche. Dall'altra parte abbiamo dei test con protocolli completamente diversi. Dei protocolli che partono da un ritmo blando, via via crescono, ritmo meglio, e arrivano solo negli ultimi step, al massimo una performance della gente. E qui ci sono tantissimi test, c'è anche lo standard di riferimento. Il test di consumo di ossigeno viene fatto con un protocollo incrementale, che a seconda dei diversi autori di test, con step di lungo, di corti, diciamo, molta carne di uomo in letteratura, eh? Però ci sono sempre test di implementarli dove negli ultimi step io riesco a valutare il massimo consumo di ossigeno. Ovviamente questo test ha ridosso, perché la traditura per il massimo consumo di ossigeno costa 25.000 euro. Cioè non è alla portata di tutti. Invece il professor Cunconi, negli anni 70, quando nascevano i primi cardio, ha inventato un test a costo di un cardio. Oggigiorno il costo di un cardio è veramente una cosa alla portata di tutti, perché costa 50 euro. Se prendete quindi senza le mobili e se volete montare il tuo software con la possibilità di scaricare i dati sul computer, se prendete per 100 euro. 700 se cominci ad andare sul cardio che addirittura vi fa l'RR, cioè battito per battito e vi misura il tempo con un battito e l'altro. Guardate sui 700 euro rispetto a 25.000 euro. E' una bella differenza. Facciamo il test di un condice usatario. Nel test di Mader si usa un altro strumento che è entrato nella prassi del test, che è il lattacidotto. Se vado a misurare la quantità di acido lattico di una goccia di sangue, diciamo un test un po' evasivo, per non fare la puntura, il tuo pastrello, il dolbo delle orecchie, inoltre deve fare il sangue. E infine c'è un test, più idoneo forse per i giochi sportivi, alla meta, dove invece non ho bisogno di niente, tranne anche di una lettera somora che mi dà ritmo per andare su e giù. Questo è un test, quest'anno per esempio abbiamo fatto moltissime scuole a Bologna in un progetto di ricerca, che si può fare benissimo a scuola perché basta avere una palestra di 20 metri e poi con il computerino si dà ritmo ai ragazzi e si fanno oltre 10 ragazzi, una volta che c'è una classe più o meno si fa in due tornate. Ogni tornata, due o una decina di minuti, cioè in 20 minuti si fa un test di resistenza a ogni intera classe della scuola. Da questo punto di vista, dal punto di vista dei tempi, il test di Cuber è ancora meglio, perché si può fare tutta la classe con temporaneamente in 12 minuti. Ognuno si fa l'auto priori, ognuno a 12 minuti insegnando la pisca e fa i calmi di 20 metri a farlo. Quindi, non si fa un test di rispondere, ma non si fa un problema. Ma un test di rispondere, non si fa un test di rispondere. Grazie.